una novità nel palinsesto di tele galatina dal 4 giugno 2013 praticamente ci sarà un nuovo programma che dalle 18 in poi è un programma che andrà in diretta il titolo sarà storie di vita parleremo appunto di storie di personaggi e del salento ma non solo del salento personaggi conosciuti e anche sconosciuti cercheremo di di svelare quanto più della loro vita e di quello che hanno fatto nella loro vita quindi non vi perdete la prima puntata che andrà in onda ripeto in diretta streaming su telegalatina.com ore 18 conduce Raimondo Rodia la regia di Giulio De Giorgi